Ok, sono in streaming, sono in diretta, ok, allora, intanto notate, signore e signori, la location eccezionalmente nuova, perché quella vecchia non è attualmente disponibile perché è in disordine, quindi non conviene proprio, non conviene proprio, allora, andiamo alla chat. C'è già uno spettatore, buono, 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 dovevo farla ieri, però poi ho fatto tardi con gli imprendi e quelli, quindi non volevo farla troppo tardi, giusto? Eh, Pietro Famagali sempre presente, c'è anche Alessandro Liverani, ok, quanta bella gente stasera, eh? Bene, 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 signori, allora, signori, un attimo solo, ecco, piccola defiance, ok. Sei spettatori, c'è tanta gente, c'è anche Alessandro Liverani, buono Alessandro Liverani, Emanuele Liverani, inconvenienti tecnici? No, sono andato a mangiare la pizza, ho fatto tardi, quindi, sì, questo è un inconveniente, ma non troppo grande in realtà. C'è anche Liverani, ha scritto tre volte, sono Liverani che c'è anche lui, non so, ma io lo saluto sempre, è il mio terzo fan più attivo, il mio terzo fan più attivo è Alessandro Liverani, il primo è Emanuele, il secondo è Francesco Fumagalli. Emanuele, non c'è Francesco Fumagalli? Vabbè, partienza. Allora, novità di questa è che posso scrivere anch'io in live dal computer, perché sto permettendo da un computer, quindi c'è una regia, oggi siamo proprio un upgrade della Madonna. Allora, quindi, cari spettatori, cari sei spettatori o mi piace, cominciamo subito con i temi in scaletta, e qui però mi serve il mio cellulare, è bellissimo. Allora, parliamo di X-Factor, X-Factor, lo show musical di Sky 1, ne ho già parlato settimana scorsa, settimana scorsa, ok, settimana scorsa, parlando appunto di Lodo Guenzi, ok? Ok, allora, oggi parleremo della prima puntata live, non la seconda, ma non ieri sera, c'è anche Garia Gigante, la convivente. Allora, ok, quindi, la prima puntata live, non qua di ieri sera perché non l'ho ancora vista, perché appunto, ero a mangiare la pizza, e bla 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 bla. Allora, quindi, abbiamo detto 12 settimane, e parlerò un po' in generale delle esibizioni che si sono viste, qui c'è il cellulare, a portata di mano, tutto, trolla tutto, ok. Allora, vediamo la prima puntata live, come è successo? Allora, il primo a esibirsi, commenteremo le esibizioni in rigoroso ordine di esibizione, sono stati i Save to Casino Palace di Lodo Guenzi, che sono un buon gruppo metal, come ho già detto, mi sembra. Un gruppo metal molto buono, e hanno fatto, appunto, giovane, hanno fatto giovane fuori classe di capo plato, cioè, come avevano già fatto alle audizioni, hanno preso i orecchi per sempre di Sfere e Bars, l'hanno fatto in versione metal, quindi trap, metal. Allora, l'hanno fatta bene, perché l'hanno fatta bene, però, bisogna di qui dire una cosa, se tu fai una cosa che hai già fatto, è naturale che levi la sorpresa, e quindi, bello, però è stato un po' un compitino. Io mi aspetto molto di più dai Cavalli di Atta, come loro, quindi spero che per le prossime puntate, anche per quella che non ho ancora visto, il buon Lodo Guenzi sappia assegnare qualcosa, magari di più originale, non lo so, per esempio, hanno detto che sanno fare Giorgia in versione metal, hanno detto che la possono fare, va bene, mi piace come idea. Vediamo, comunque, è la prima, quindi, non si danno giudizi definitivi, eh, quindi. Poi, prossimo, Leo Gassman, ok, Leo Gassman ha cantato Broker Strings di James Morrison featuring Nelly Fruttato, signorina Fruttato, Nelly Fruttato, poveri, eh. Anche qui, un'esibizione buona, tecnicamente buona, promossa, promossa, ma nulla di memorabile pure qua, vado un po' veloce. Luna Mellis ha cantato E.T. di Katy Perry featuring Kanye West, se non sbaglio. Allora, lei, c'ha una grinta, 7 spettatori, 2 milioni, cioè, c'ha una grinta incredibile. Cioè, lei tiene il palco come non so che cosa. E... Tiene il palco benissimo, cioè, si muove, c'è anche quel piumino, quella giacca piumino, che fa tanto, eh, ciao, sono dinamica, sono giovane, sono fresh, sono fashion, ok? Ma, al di là di quello, anche la voce è molto potente, cioè, è una specie di Katy Perry denoantri, denoantri italiani. Niente, sono due cose diverse, mi rendo conto. Faccio così perché sono su una sedia dondolante, quindi mi dondolo avanti e indietro. Quindi, dicevo, lei è brava, è brava e quasi, è un personaggio già quasi bello che è fatto, questo è interessante. È un po', un po' zuccheroso, molto radiofonico, che però comunque può funzionare benissimo oggi, perché in Italia è una cosa, nell'attuale stato delle cose, scusate la ripetizione, non c'è, questa è una, non c'è, quindi perché no? Poi, Renzo Castelli, di Fedez, ha cantato Rug Muffin di Sera Su, Sera Su, che quando l'ho sentito, questa è una specie di parolaccia, Sera Su. Allora, sta Renzo Castelli qui è brava, la versione, questa versione soft di Rug Muffin mi è piaciuta moltissimo. A vestire sembrava anche Emma Stone in La La Lander, un vestito giallo, forse un po' più lungo, però giallo. Poi i petali, chi non è finito in bocca a mettere cantare, ho canto tipo... No, è vero, eh, c'è proprio anche l'ospettione su internet, probabilmente, dove si ficati in bocca del petto, ho dovuto scutarlo, praticamente, fuori. Io ho riso, come poche volte, come poche altre volte, in quel momento, è molto divertente. No, ma lei, come detto, è brava, tutti più o meno bravi, eh, ma non riesce a levarsi i dos su quattro sfera un po' da piano bar e un po' da sagra della porchetta di Aricia. Della porchetta di Aricia, è proprio una di quali era la sagra paesana, dove, tipo, dove, appunto, ci sono quei musicisti bravi che, però, sono musicisti da sagra paesana, appunto. Non dico il livello orchestra a casa dei, comunque, molto rispetto a quell'orchestra a casa dei, ma, tipo, livello, gruppo di cover italiani anni 80, che ti rifanno, sarà perché ti amo, in versione trap, una roba così. Che poi torneranno dopo i ricchi e poveri, perché ci sono solo pure i ricchi e poveri dopo. Non è che sono quei ricchi e poveri, sono quei ricchi e poveri, no, non è vero. No, 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 forse. Forse. Allora, poi, sono insibiti Red Bricks Foundation, praticamente la Lega dei Martoni Rossi, hanno creato New Rusty Dua Lipa. Allora, io non li conosco, non ho niente contro di loro, carità di Dio, però è stato vergognoso. Un'insibizione al limite del vergognoso, davvero, guarda, che poi l'Odo Renzi, Mick Jagger dei poveri, a parte che uno non è un compilimento. A parte che Federer ti ci somiglia da Killau e non è un compilimento manco quello. E' un'esibizione qua ai limiti della, non dico decenza perché non sarebbe carino, ma dico della dignità, della qualità. Quindi sì, non è stata una buona esibizione, no. Non sono stato molto tenero, però è così. Poi ha cantato Anastasio, quello da Mayonchi, che ha riscritto C'è Tempo di Ivano Fossati. Allora, lui è molto particolare, perché lui non canta, lui non rappa, lui scrive, è come se recitassi i testi dei suoi canzoni. Cioè ogni sua esibizione è praticamente un recital. A me piace moltissimo. Io lo vedrei a teatro, uno come lui, sinceramente. Ci vedo bene in un bel teatro. O un album suo, però non so quanto un album di spoken song possa andare oggi, sempre in Italia. Ma a teatro credo che spaccherebbe di brutto i cosiddetti. Anche se però mi duole, odio dovessere io doverlo fare, ma mi spiace deludervi, cari colleghi, spettatori, ma non è una cosa nuova quella che fa lui. E' parzialmente nuova. E' parzialmente nuova perché? Allora, piccolo momento di storia. Per quanto possa valere. Nel 2006, febbraio, come ogni anno, va in onda al classico festival di Sanremo, ok? Prima serata. Sul parco sale una cantante che ha voluto tenere il riservo sulla sua esibizione fino all'ultimo. E perché? Perché direte voi? Questa cantante si chiama Anna Oxa. Una che ha fatto delosare il suo marchio di fabbrica, ok? E lei presenta questa esibizione qua, la canzone, processo a me stessa. Lei va sul parco. C'è un gruppo tipo di coristi, non si capisce bene. Lei prende un foglio, inizia a recitarsi. Il testo e la canzone sono all'anguida base musicale firmata da lei medesima. Il testo è scritto da lei medesima sempre, è firma Pasquale Panella. Voglio dire, non è niente di male, perché comunque non è la scrittura di una vecchia canzone. Però comunque dico solamente che dare anche giusto merito alla Oxa, che fu un'estate di critica per quell'esibizione di sette spettatori intanto. Mi sembra un bicchiere d'acqua, l'anguola secca. Allora, quindi, la prossima cantante è stata Naomi Riveccio. Naomi Riveccio ha canto Love on Chop di Bimfè. Questa è poi la live casinista, allora. Love on Chop di Bimfè. Allora, lei è brava? Sono tutti bravi in realtà. Allora, lei è brava? La televisione si era accesa. Allora, lei per carità divina è brava. Che servizio. Eccola qua! Ah, hai visto? Naomi Riveccio ha cantato Love on Chop di Bimfè. Lei è brava, voce chiara, limpida, acuta, squillante. In senso buono, ovviamente. Naomi Riveccio saluta, dice ciao Clara. Chi è Clara, Naomi Riveccio? Chi è? Chi è? Io non sono Clara. Allora. È squillante, chiara, limpida, esibizione nitida, pulita, essenziale. Solo aggettivi per lei. Poi, i Bowland di Lodo Gwensi, sempre. Un gruppo che ha cantato Sweet Dreams are made of this, degli Eurythmics. Eurythmics. Dai. Allora, io dico una cosa. Loro sono bravissimi. Se vuoi cantare di lì, ha una voce che è pura manna. From the sky, santo Dio. From the sky, davvero. Un dono divino. Un dono divino. Cioè, allora, io non vorrei sprecarmi in commenti, magari, voli pindarici, cose così. Però lei potrebbe essere una sorta di Annie Lennox, anche qui italiana. Paragone, c'è un abisso, me ne rendo conto. Però, se si mette a lavorare e si fa due bei marroni appaiati così, allora, allora, allora può finire a fare qualcosa di buono, secondo me, da lei. Perché anche quel gruppo lì, comunque quel di Geridoo, con cui sono un po' erotici, mi piacciono tantissimo, guarda. Cioè, le mie orecchie, mentre la sentivo, ha detto, sì, grazie Enrico, questo volevo dalla mia vita. Per questo siamo anche attaccati a te, vogliamo sentire questo. Secondo il tuo modesto parere, dice Manuel Di Verani. Però non è italiana, lei appunto per questo. Appunto, è egiziana, sarà contente gli egiziani. No, è egiziana, non è egiziana. Dalla regia mi dicono che non è egiziana. Regia, possiamo avere la nazionalità di questa ragazza, al favore? È pakistana, pakistana. Grazie in regia. Applauso per la regia. Oggi live un po' cacciarona, così. Allora, con le papere della diretta. Poi, ha cantato Cheryl Dos Santos. E che spavento, Cheryl Dos Santos è il segnalario dell'Apple, non so se l'avete visto anche voi. Allora, lei è brasiliana. Lei è brasiliana, questa qua. È brasiliana, Cheryl Dos Santos. Allora, accanto Can't Feel My Face in the Weekend. Io ho ingegnato a chiare la tv, dico grazie. Grazie, anche qui. Anche questa pura manna, pura manna. Mi ripeto, però, questa qui davvero bellissima è stata. Cioè, lei canta da Dio. Lei è una pantera nera. Lei è la Beyoncé, non italiana, ma di dov'è brasiliana. La Beyoncé brasiliana, cioè, non è brasiliana. La Beyoncé di dove è lei? Però, sicuramente, non è italiana, con quel nome lì. Davvero. Cioè, lei è una pantera. Lei è la donna moderna, quella che sa quello che vuole. Quella che non chiede, ma lei prende. Sembra un paragone adorato, ma non lo è. Non lo è, perché è una vera, quasi una fan fatale. Un misto fra Jessica Rabbit e Black Panther. E un po' di vedova nera, ok? Beh, e la voce di Beyoncé, naturalmente. Una voce nera, ma con qualche... Una voce grigia, grigia, ma buona. Come deve Michela Murgia, una profusione di aggettivi da shock amoroso. Poi, ha cantato Emanuele Bertelli, di Mara Maionchi. Quando... Io conosco una persona. E quando l'ha visto mi ha detto, a 16 anni. E lui è X Factor. E mi ha chiedito, ma tu cosa stai facendo a 16 anni? Perché non sei ancora lì? Mi ha detto, una persona. Chi mi conosce sa chi è. Allora. Emanuele Bertelli. Emanuele Bertelli. E' una voce molto nera. Molto quasi soul. E' quello che alle audizioni ha cantato Human, di Rug and Ball Man. Allora. Agato Impossible, di James Arthur. Secondo me è stato uno dei peggiori da serata. Lui, Red Bricks Foundation, è un altro che viene... Dopo che non rovino la sorpresina. Allora. Ma più che altro perché era asettica. Non mi è arrivato. Non mi è arrivato. Sì, lo so. Non mi è arrivato lui. Non c'era empatia. Non c'era amicizia fra me e lui. Nel senso di esibizione, naturalmente. L'ha portato quasi platonico. Devo stare zitto su questi argomenti. Allora. Poi. Matteo Costanzo, di Fedez. Ha cantato Power di Kenny West. Allora. Il partire, italianizzando il testo di questa canzone, non gli ha giovato. Anche lui sicuramente il testo è il peggiori da serata. Infatti, come vediamo, finì al barottaggio con il Red Bricks Foundation. Anche qui è asettico. E mi ripeto, però, il termine è quello. Proprio un'esibizione anonima. In colore. Spenta. Mi spiace per lui. Perché l'hanno eliminato. Piccolo spoiler. Tanto, dopo una settimana si può dire. Poi. Ultima esibita. Martina Fili. Quella che cantava della chirofobia. Cantava della chirofobia alle audizioni. Quella che faceva il boom di... Che da regia mi dicono essere... Avere problemi psichici. Ma scherzo. Cherzo. Sia mai... Sia mai che mi cuorevano qui, eh. C'è un avvocato fra di voi. Allora. Fra voi pubblico. Dunque. Abbiamo detto. La Martina Tila che ha canato Castle in the Snow. Di Cade Bostani. Che non conosco assolutamente. Ma tene. Però lei... Emanuele Liverani dice che non c'è nessun avvocato. Dicemanuele Liverani. Quindi qui ci crediamo. Qui ci crediamo. Allora. Non conosco la canzone. Assolutamente la conoscevo prima. Però lei è veramente una personalità unica. Lei è una. Una e Trina. Lei è un cartoon animato vivente. Lei è un Looney Tunes sotto acidi. Praticamente. Allora. Tu prendi l'ultimo. Prendi Looney Tunes. Ci metti. Mi si con un po' di acidi. Li metti. Ti a cazzo del tempo. Li mandi avanti a 100 anni e trovi lei. Semi cheat. Bene. Poi. Al balottaggio a come detto vanno in Red Bigs Foundation. Che cantano un ragazzo di strada dei corvi. Che preferisco non commentare. Perché. Matteo Scanto. Grande copertina. Grande grazie. Grande la copertina della live. Grazie. Eh. Esibizione che preferisco non commentare. Perché. Sennò perderei il mio. Il mio abituale. Acrombo. Qui. Esco di no. Matteo Costanto. Canto canta la descrizione di un attimo. Dei tiro mancini. Esibizione molto migliore della precedente. E. Elimino Matteo Costanto. Ovviamente. Perché. Merito. Grazia. Che vuoi che sia. Non ti arrabbiare. Pazienza. Voglio dire. Vediamo il capitolo X Factor. E passiamo a un'altra parte. Proprio. Da un altro pianeta. Passiamo al. Cinema. Che ci c'è sempre tanto a cuore. Il nostro. Il cinema. Il cinema amico. Ah. E' un'altra cosa. Non parlerò di Corona Grande Fratello Vip. Perché. Non voglio dargli un po' più di importanza. Di quanto avrebbe. Aperta e chiusa parentesi. Signori. Quindi. Cinema. Allora. Fatto. Siccome c'è un po' di morti. Oltre a studiare. Ovviamente. Perché compiti ci sono sempre. Ho fatto un po' anche al cinema. Ho stato ieri. E oggi. Ieri ho visto. First Man. Il primo uomo. Di Damien Chazelle. Di cui poi parleremo. Spero. Spero. Approfonditamente. E. Oggi ho visto. Millennium. Quello che non uccide. Di. Fede Alvarez. Non è. Il primo svedese. Però. Svedese. Americano. Marilita Argentino. Proprio. Praticamente. È l'ONU fatta la firma. Praticamente. Allora. E no. È un argentino. Uno è svedese. Un americano. Ci deve essere anche. Ci manca i russi di mezzo. È l'ONU. Sì. È l'ONU fatta la firma. Lo teniamo come paragone. Allora. Poi commenteremo un paio di trailer assieme. Poi. Penso che finiremo. Live Brave oggi. Allora. Dico sempre così. Questa durano le ore. Le ore. Le ore. Le ore. Ancora. Grazie regia. Allora. Oggi. Oggi. E' tutto fare. Cambio di location. No. Quello è. Solo per oggi. Matteo Scanta. Solo per oggi. Ho trovato un direttore di palco. A poco prezzo. Anche un po' di regia. Quindi. Allora. Parliamo di First Man. Allora. Chi ha diretto First Man? L'ha diretto Damien Chazelle. Allora. Damien Chazelle ha fatto tre film. Ok. Quello secondo ha vinto l'Oscar. Come migliore registro. C'è entrato una storia. Per una. Per motivi però. Di sbagliati. Allora. Allora. Abbiamo detto. Il suo primo film è stato We Plash. Il secondo era La Land. E il terzo appunto First Man. We Plash è un capolavoro. Senza se e senza ma. Il rapporto fra l'alunno. Che vuole imparare. L'insegnante. Stronzo. Tirano e manipolatore. Parlo del personaggio. Ma è un complimento. La performance della vita. Per J.K. Simons. Che si ciuccia un bello Oscar. Infatti. Molti di voi lo ricorderanno. Come lo psicologo. Barbuto. In Law and Order. È una performance incredibile. Cioè. Davvero. Io. A quelli. Io lo amo. J.K. Simons. Per quel ruolo lì. Ha un ruolo. Prima di battute. Città bian infinito. Principalmente gli insulti. Che rivolge al suo povero studente. Che non ripeterò qui. Ma comunque si vede che si diverte un mondo. Ci crede. C'è una rabbia di fondo in lui. E questo va bene. Decisione veloce. Emil Skoda. Bravo. Grazie. Manuel Di Verani. Quanti momenti. Abbiamo quattro mi piace intanto. Allora. E sul secondo film. Lara Land. Allora. Bello. Regia impeccabile. Premiata con l'Oscar. Musica impeccabile. Premiata con l'Oscar. Interpretazione di Amazon. Che vale il prezzo di biglietto. Fidatevi. Perché la Stone è una dea. Io direi quasi divina. Perché davvero. È bella. È brava. Canta. Balla. Ci mette l'anima. Si svena con i denti. Anche questa semi-cheat. Chi me la coglie. Vince un mappamondo. Si svena con i denti. E. Lei. Anche lei. Allora. In ogni suo film. Shazelle. Ha portato una performance carnosa. Proprio della carne. Do sangue. Come dicono. In altri paesi. Del sangue. Tu ci metti la convinzione. La testa. Il cuore. E infatti. Sia Jackie Simons. Schermato non si sono presi. Mamma lupa. Bravo. Ma non è bene. Vincere una promanda. La citazione. La colta. La colta. Piccola parentese. Anche questa qua. Cioè. Lei ha avuto. Ha avuto. l'Oscar. Anche per. Anche. Marston. E. Ma. Questo. First man. Possa. Cosa che manca. E. Questa. È la performance. Di carne. Non c'è la carne. In first man. Non c'è un attore. Che dia carne. First man. È. Per chi non sapesse. È un biopic. Su Neil Armstrong. Che precede. I suoi. Che va dal 1961. Al 1969. Cioè. Dall'anno della morte. Sua figlia. Non è uno spoiler. Accade nei primi minuti. Comunque. È storia. Quindi. In generale. Spoiler. 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 Alla fine. Vanno sulla luna. Mamma mia. Allora. 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 Attimo di defraianza. Scusate. Allora. Appunto. Il film parte. La morte. Sua figlia. Per arrivare a lui. Che va sulla luna. Ma. Credo che abbia. Questo film abbia. Tre difetti. Il primo. Lo dico dopo. Il secondo. È una mancanza. Di emozioni. Perché. A me. Ha emozionato poco. Cioè. Emoziona di più. Nella scena. Nella scena. Della lunaggio. Emoziona. È vera emozione. Perché lì. Non solo. Il tema. Di Justin Horowitz. Compositore. Feticcio. Di Chazelle. Compositore. Anche di La La Land. Appunto. Riecheggia. In tutta. La sua potenza. Ma. Quel tema lì. È bello. In quella scena. Ma per tutto il resto. Il film. Sembra un eco. Del tema di La La Land. Cioè. Per dire. Il nostro film. Il precedente. Era fantastico. Prendiamo un po' di pezzi. Di qui e di là. E ci mettiamo un'altra storia nuova. E così. Credo sia meno bello. E tre film di Chazelle. Questo. Mi sembra. Poco ma sicuro. Ripresce il capolavoro. Sta cano. Chazelle. Deve riprendersi. Quindi. Non è un insulto. Per carità di Dio. Allora. Abbiamo detto. Poi. Altro difetto. È che. Com'è. Dipinta la storia. Cioè. Se tu dipingi la storia. Dal punto di vista. Di una persona. E la figlia muore. E l'amico muore. In incidente. Perché. I colleghi. Naturalmente. È pericoloso. Come lavoro. Aspeggio. Anche in 60. Non c'è. Tutte le tecnologie di oggi. Quindi. Dostro amici muoiono. Ma. Non iniziano. In periodi diversi. Quindi. Sembra che sia un rietatore. Più che altro. Non ti emozioni. Lì pensi. Certo. Questo qui. Porta più. Più. È la dell'età. Questo qui. E quindi. Questo è il secondo difetto. Il primo difetto. Ovviamente. Allora. Io non conosco. Ryan Gosling. Io non l'ho mai incontrato. Ryan Gosling. E. Farò mia. Una frase. Del grande. Stefano Disegni. Il grande disegnatore. Che lo disegnava. Nel suo vignetto. Come un termosifone. Inghiesa. E ho detto. Tutto. C'ha due. C'ha tre facce. Annoiata. Sorgnona. Sorgnona triste annoiata. Sonnambula. Sorgnona triste annoiata. E sonnambula. Claire Fouin. Che interpreta la moglie. È molto più. Ci mette molta più carne di lui. Lei sì. Ma non è abbastanza. Lei è sempre lì. È come se prendi cinque e mezzo. In una verifica. Ok. Hai fatto quel lavoro lì. Ma se prendi in mezzo. È un lavoro migliore. È un lavoro sufficiente. Lei non è una performance. Per carità. Io ho una nomination agli Oscar. Gli aderei alla povera Claire Fouin. Ma il premio sicuramente no. Manca. Manca. Lei è giovane. Ma manca quel carattere che si è visto in The Crown. Manca quel morso. Deve mordere. Deve mordere di più. Deve mordere di più carne. Più sangue. Come ho detto finora. E. Rumanendo. Non vedo. Non vedo. Rumanendo su Claire Fouin. Claire Fouin mi perseguita. Allora. Claire Fouin mi perseguita. Chiudiamo la live. Chiudiamo la live. Con l'ultimo argomento. Oggi live breve. Stavolta davvero. Mi perseguita perché. E anche lei protagonista di Millennium. Quello che non uccide. Che ho visto adesso. Sono tornato adesso. Allora. Conosco gente. Conosco gente sotto i 5 e mezzo. Sì. Chi è l'Assemble di Verani? Chi la conosci? Amico amico. Allora. Appunto. La Claire Fouin interpreta Lisbeth Salander. Cioè una femminista tutta tatuata. Punk. Che vendica gli uomini. Che uccide gli uomini che guardiamo le donne. Non la giustizia. Il lavoro fanache. Quello è un hobby nel tempo libero. C'è chi gioca a carte. Chi colleziona statuette di allerga e castori. E chi uccide uomini che guardiamo le donne. Oggi come tanti. Qui non parlerò. Sarà molto uno spoiler. Un parere molto a caldo. E vi dico solamente che. Questo film. Diciamo così. Allora. L'oggetto del contendere. Una guerra praticamente. Di organizzazioni criminali. Spie contro spie politici. E' un software. Che permette di controllare. Ogni deposito di armi presente nel mondo. Ok. E il creatore ingaggia la Salander. Per trovarlo e distruggerlo. Naturalmente. Ma come ti viene in mente. Di creare una cosa del genere. Ma dire una cosa di suo dopo. Che è una cosa brutta. Questa cosa qua. Certo che se invece le mani sbagliate. E scatena non la terza. La quarta. La quinta. La settima. La settima. L'ottava. La sesta. Guerra mondiale. Cioè tu scatena te dici. Guerra mondiale. Con quell'affare lì. Scusami. Non so. Mi perplime questa cosa qua. Ma. Però lì se ne accorge ovviamente. Il problema è che se ne accorgono anche gli altri. Quelli che sono interessati. C'è la mafia russa. Gli americani vogliono riprendere solo perché. Agli americani ne ha dato. Gli svedesi però. C'erano delle mire. Anche loro. Poi. Matteo Scanta. Dovrei un po' colizionare la statuetta. Degli allegri castori. Vabbè. Allora. Dice no. Chiudiamo. Andiamo verso la conclusione. Allora. Perché è un appuntamento. Un impegno stasera. Dico anche qua. Allora. E quindi la Salander. Deve recuperare il software. Però poi scoprirà. Che questo so. Che le persone che lo vogliono. Hanno. Hanno dei conti in sospeso con lei. Sono persone che appartengono al suo passato. Il film è. Una costruzione impeccabile. Gli ambienti svedesi innevati. Incepibili. Fidel Varec dirige con mestiere. Mestiere mano ferma. In quadrature giuste. Asciutte. Stima fotografia. Anche qui. Anche qui. Grigio azzura. Come nei svedesi. Ma che si colora. Di rosso. O di arancione. Nelle scene. Di esplosioni. O quando a fare. Il villain del film. Claire Fua. Qui. Ci mette la carne. Questa. C'è una performance vera. Qui. C'è. Qui. Lei. Molto fisica. Ok. Lei si trucca. Si. Scrami i capelli. Ok. Si. Si fa un tatuaggio finto. Borchi e tutto. E si fuma mille sigarette. Ma quella è bella. Salander. Lei. Forse. Rende molto meglio. Di run i mare. Non mira pace. Ma. Non so perché. Davvero. Forse perché. Ha la faccia giusta. Misto fra la bella ragazza. E la donna cazzuta. Come poche. Quindi. Claire Fua. Si farà. Scusate la rima. La pseudo rima. Ok. Allora. Ultimo argomento. Ultimo argomento. Della serata. Eh. Volevo commentare. Facciamo. Uno o due trailer. Uno o due trailer. Due. Ok. Tanto due ne ho. Allora. Il primo trailer è. Tutti lo sanno. Di Asgard Paradi. Registrarbo. Premio Oscar. Due premio Oscar. Per il cliente. Una separazione che non ho visto. Allora. Questo film. Il film di apertura. Candi quest'anno. Praticamente c'è una donna. Quindi parta da quella. Da quell'angelo. Che è Penelope Cruz. E. Che vive in Argentina. Ma è spagnola. Cruz ovviamente è spagnola. Torna. Torna tipo per un matrimonio. Il matrimonio della sorella. E. Torna con la figlia. Rincontra il suo ex spasimante. Interprato da Javier Bardem. Che è in realtà il marito della Cruz. Che lui mostra un sacco della recitazione. Naturalmente. Raramente è stato male. Si vede il suo. Raoul Silva in James Bond. E appunto. Ma lì la figlia la rapiscono. Non l'ho visto il film. Sono in tre. Ah. Non mancherò. Ma i drani. Certo. Andiamo a vedere assieme. Dai. Allora. Appunto. Le rapiscono la figlia. Il marito torna dall'argentino. E scopre che lei è un segreto. E il trailer si chiude con. Devi vedere chi lo sa. E la risposta è. Tutti lo sanno. Che è il titolo del film. Quindi. Thriller. Quasi anomalo. Quasi anomalo. Perché la Spagna è rurale. Troppo è in rurale. Nei digiuni nostri. Comunque è un ambiente interessante. La Cruz e Bardem. Sono due attoroni. Due pesi massimi. Quindi chissà. Se riesco lo vedrò. Ultimo trailer. Di cui parlerò oggi. Allora. È molto molto breve. Oggi ce l'ho fatta. Con un live breve. E. Cosa fai a Capodanno? Allora. Che cosa fai a Capodanno? La festa che preferisco. L'ultima notte dell'anno. L'attesa. Dopo mezzanotte. Sarà qualcosa di nuovo. Una nuova vita. Un nuovo anno. Le cose dell'anno vecchio saranno alle spalle. Le cose nuove saranno davanti. Come un foglio bianco. Come un compito in classe. Metafora brutta. Allora. Similitudine brutta. E appunto. L'ultima notte dell'anno. Si lascia ufficiale. Recita. Un camion. Di un catering. Che trasporta osti. Caviale e champagne. Si trova in panne. Su una collina. Contemporaneamente. Lo chalet. Su montagna. Non in collina. Lo chalet di montagna. Che sono disinati le osti. Che il salmone. Caviale e champagne. È stato affittato. Da. Tre coppie. Allora. Quattro coppie. Praticamente. Ci sono questi due. Che sono Luca Argentero. E Ilenia Pastorelli. Che affittano lo chalet. E. Credo per fare dello scambismo. Non si capisce. Non capisco. Siamo una mucchiata. O sono degli scambisti. Non si capisce. Poi. Hanno invitato. Quindi altre tre coppie. Oltre a loro. Hanno invitato. Riccardo Scamarce. Va a entrare a Lodovini. Riccardo Scamarce. In questi anni. Sta recitando sempre meglio. Non l'avrei mai detto. Lodovini. Vabbè. Quella che è. Da grande. Poi Isabella Ferrari. È il suo. Quello che sembra. Essere il suo toy boy. La Ferrari. Madonna. Ovviamente. Di grande. Classe. E capacità. E. Alessandro Haber. E la sua giovane fidanzata. Vittoria Puccini. Allora. Puccini. È brava. La Pastorelli. Anche lei. Bravissima. La gente. È bravo. Abel. Lo sacro. E. Sette sconosciuti. Appunto. In questo show. Di montagna. Sette semi. Sconosciuti. E semi. Sconosciuti. E. Appunto. Chissà che succederà. Perché poi. Comunque. L'autore. Se non vado errando. Un attimo. Di Google. Un attimo solo. La donna. La donna. Va bene. Formazioni. Il regista è Filippo Bologna. Sì. Il regista è Filippo Bologna. Che accorce un sceneggiatore. Un sceneggiatore di Perfetti Sconosciuti. Quel capolavoro di Perfetti Sconosciuti. Chi non l'ha visto. È un allegro castoro. Allora. Quindi. Con questa attesa. Per questi due film. Molto diversi fra loro. Questa recensione di due film. Questo commento da X Factor. Questo. Con questa contentezza. Per la vittoria di tappa. Del signore TV. A Pecchino Express. E per l'eliminazione. Degli anonimi alieni. Sempre di Pecchino Express. Un dieci piccoli indiani. Un po' meno sadico. Io. Live. 36 minuti. Arrotondando. Io vi saluto. E vi do appuntamento. Alla prossima. Verani. Numero 7. E. Mi sa che tornerà. La vecchia location. A questo punto. Vediamo. Allora. Buona serata. Ciao. 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 Bye. 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 Bye.